ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati o benvenuti sul canale oggi ho voluto fare questo make up un po eccessivo direi giusto così perché ho fuoriuscito da una scatola tutte le mie palette e nulla ha detto ma mi faccio un make up visto che è da tanto tempo che non mi trucco e ho realizzato questo make up qui all'interno del video però non si vede che applico le ciglia finte però vabbè dettagli ve lo dico io in anticipo e nulla se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e commentate qui sotto io vi mando un bacio grande vi lascio al video e noi ci vediamo come sempre ciao 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 ciao